La testimonianza è senza condizioni. Nella memoria dei protomartiri della Chiesa Romana, celebrando la Santa Messa nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco si è soffermato sulla concretezza della testimonianza cristiana che deve essere ferma e decisa. Ieri come oggi Gesù ci chiede di seguirlo anche fin sulla croce per irrigare la sua Chiesa e per diffondere la gioia e la speranza del Vangelo. Oggi ci sono tanti martiri nella Chiesa. Tanti cristiani perseguitati. Pensiamo a Medio Oriente. Cristiani che devono fuggire dalla persecuzione. Cristiani uccissi per i perseguitori, dal perseguitore. Anche i cristiani cacciati via in modo elegante, con guanti bianchi. Anche quella è una persecuzione. Oggi ci sono più testimoni, più martiri nella Chiesa che nei primi secoli. E questa Messa, facendo memoria dei nostri gloriosi antenati qui a Roma, pensiamo anche ai nostri fratelli che vivono perseguitati, che soffrono e che col suo sangue fanno crescere il seme di tante Chiesse piccoline che nascono. Preghiamo per loro e anche per noi.